Nicola Cattaneo Rebuschini, collaboratore di Gonzalo Lopez, della BCN Pro Tennis Coaching Spagna. Anche lui che ha partecipato al corso di ottobre 2016 della MTMCA, chiediamo se in qualche maniera questo corso è riuscito a colpirlo particolarmente per qualche aspetto e si è reputato la nostra metodologia innovativa. Sicuramente ero molto curioso di portare questo corso, ho trovato un grande beneficio da tutti i punti di vista, sia dal punto di vista organizzativo che poi didattico. La didattica di Giglio è stata eccellente, ritengo che la metodologia utilizzata sia una metodologia moderna, quindi applicabile al tennis moderno, cosa molto difficile da trovare secondo me nelle varie metodologie che esistono e credo anche che il metodo sia semplice ed innovativo e per questo innovativo, più semplice di quello che pensavo nel dare la didattica di come applicare i colpi e di come correggere i colpi, molto immediato e molto intuitivo, quindi assolutamente non utile, raccomandabile se posso permettere di questo. Tu che hai lavorato con giocatori pro, ci dai la conferma che questa metodologia è utilizzabile dal bambino fino al top player? Assolutamente, tutta la trafila, parti dal bambino, puoi arrivare ai giocatori agonisti, semi agonisti e puoi anche utilizzarla senza nessun problema. Ho trovato tante similitudini, anche se sembrerebbe non vero, invece sì, tante similitudini con quello che viene applicato nella pulizia dei colpi e nel gioco applicato dai coach ai giocatori professionisti. Quindi consiglieresti comunque ad un tuo collega il nostro corso? Assolutamente sì. Grazie Nicola, al corso di aggiornamento, buona giornata. Grazie a voi.